ma noi litighiamo veramente per quando veniamo truffati la risposta è no beh noi su salve il mondo litighiamo solo per il polla salve cosa vuole si salve vorrei un po' di pollo se è permesso questo pollo ok si può anche accomodare sopra va bene va bene dove stanno le scale non c'è stanno scuole qui quindi dovrà usare il suo super potere per vedere dove stanno le scale ah no li ho trovati sono qua anzi guarda perché non mi ricordavo dove erano visto che non si arriva da un sacco di tempo qua è rotto questo è il bagno vado al piano più alto è un po' rotto però dai e la c'è un tavolino e vabbè va bene mi vede sì ti vedo comunque aspetto eh oh emma no mi so scusciato basta quando arrivi stu roble polla io ti uccido io ti uccido ma che cazzo oh come vuoi sto non sei merdo come vuoi io ti uccido ti uccido ecco come ti uccido ah come ti uccido ho salvato il superstite come come heurevo ma che senso cosa vuoi erano luce i dera ah não lo se deee hanano gli asdei hanano gli asdeii hanano gli asdeee